mangiare la frutta lo sanno tutti fa bene alla salute ma i succhi di frutta fanno altrettanto bene una revisione di tutti gli studi ha mostrato che la frutta protegge molto i succhi freschi cioè le spremute proteggono un pochettino meno la differenza è che non contengono un elemento protettivo importante della frutta che sono le fibre della frutta se noi trattiamo col calore la frutta probabilmente molte sostanze protettive si perdono probabilmente si perde la vitamina c la frutta contiene glucosio contiene fruttosio ma contiene anche delle sostanze che ci proteggono quindi succhi di frutta sì ma succhi di frutta il più naturali e freschi possibile quindi